Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo biografico incentrato sul vita del romanziere britannico John Le Carré. Il lettore, attraverso la testimonianza delle sue lettere, può entrare nell'intimità della vita dello scrittore e conoscere meglio l'uomo dietro l'autore. La trama del libro Vita privata di una spia dello scrittore John Le Carré, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. Scrittore di riferimento per il suo tempo, il romanziere britannico John Le Carré si è lasciato alle spalle un tesoro di lettere quando è morto, all'età di 89 anni, alla fine del 2020. Ci sono missive ai membri della famiglia, a politici, come Margaret Thatcher, attori come Hugh Laurie e Gary Oldman, colleghi romanzieri, come Philip Roth, John Civer, Ian M. C. Evan, Tom Stoppard, William Burroughs e Graham Greene, alle spie di oggi e a quelle di ieri, a sconosciuti in cerca di consigli, agli amici di una vita e a Jane, sua moglie per 48 anni. Tim Cornwell, il terzo dei quattro figli di Le Carré, si è assunto il compito in mani di organizzare questo materiale. Il risultato mostra l'autore al suo meglio, erudito, supponente, combattivo, arguto e riflessivo. Vita privata di una spia abbraccia sette decenni, dal 1945 al 2020 e racconta non solo la vita dello scrittore, ma anche i tempi turbolenti di cui è stato testimone. Partendo dalla sua infanzia negli anni 40, l'epistolario include i resoconti del periodo trascorso a Oxford e dei giorni in cui insegnava Eton. Descrive il suo ingresso nel Me, in Que e la Cortina di Ferro, nonché il fiorire della sua carriera di romanziere. Attraverso le sue lettere incontriamo Le Carré che scrive a Sir Alec Guinness per convincerlo ad accettare il ruolo di George Smiley nella trasposizione cinematografica del romanzo, e più tardi che discute dell'immoralità della guerra al terrorismo con il capo del servizio di sicurezza interno tedesco. Alcune lettere provengono da un archivio che Le Carré conservava nella sua casa in Cornovaglia. Altre sono state raccolte da biblioteche, agenti, editori, amici e parenti. Ne emerge un ritratto indimenticabile non solo dello scrittore e dell'intellettuale globale, ma anche dell'uomo nella sua vita privata, eccezionale, come quella dei protagonisti dei suoi romanzi. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.